il massimo di se stessi per poter variare questo numero 4 contro la torre di Pantera perpegato il calore di Amo al fine del 4,5 minuti e 50 secondi, no, il risultato definitivo del numero 7, 6 minuti e 50 secondi, non solo un controllo definitivo ma la grande protezione, con loro raccomandori, con loro che sono i senati. Grazie! Grazie! Grazie!